Ben ritrovati al telegiornale oristanese. È stato arrestato lo stalker di Alessia Orro, la pallavolista della Nazionale di Narbolia. Sentiamo. Alessia Orro, la pallavolista di Narbolia, che fa parte della Nazionale Italiana di Pallavolo, per mesi sarebbe stata perseguitata da uno stalker che inizialmente l'avrebbe solo contattata tramite i social, per poi diventare una presenza costante seguendola durante tutti gli incontri sportivi che la vedono protagonista anche nella squadra di Busto Arsizio. Le proposte di incontri sessuali corredati da inviti a cena sono durate per mesi. A renderlo noto l'agenzia ANSA, che ha annunciato l'avvenuto arresto dell'uomo da parte degli agenti del commissariato di Busto Arsizio, che hanno svolto le indagini. 53 anni, Dino Vara risponde al nome di Angelo Persico e non sarebbe nuovo a episodi del genere. Al momento del fermo, il soggetto aveva con sé due coltelli. Un giorno senza morti sulle strade di tutta Europa e questo giorno sarà il prossimo 26 settembre. Questo è l'obiettivo della campagna europea Edward, promossa dal Network Europeo delle Polizie Stradali. In vista di tale giornata, lo scorso 19 settembre, il dirigente della sezione della Polizia Stradale di Oristano, il commissario capo dottor Roberto Piredda, ha incontrato tre classi di studenti dell'Istituto Alberghiero, sensibilizzando i medesimi anche con videoforti sui pericoli connessi al mancato rispetto delle norme del codice della strada. Sono stati posizionati i primi tre serbatoi che vedranno il porto industriale di Oristano e Santa Giusta come il primo deposito costiero di GNL in Italia. Sentiamo. Il progetto della metanizzazione sarda è sempre più vicino. Sono stati posizionati i primi tre serbatoi dei sette previsti dalla Aigas e Gas and Eat SPA. Ad annunciarlo con soddisfazione questa mattina è il sindaco di Santa Giusta, Antonello Figus. A pochi mesi dalla posa del primo mattone ci ritroviamo invece a inaugurare i primi tre serbatoi del deposito costiero. Quindi segno evidente che la società procede rispettando i tempi previsti, anzi con una certa cerità. Quindi questo vuol dire che entro il 2020 il metano, le prime navi cariche di GNL arriveranno nel nostro porto e da qui potranno raggiungere tutte le parti della Sardegna. Ma non sarà solo un'opportunità per questo territorio ma per tutta la Sardegna. Questo sarà il primo deposito costiero di GNL in Sardegna a beneficio quindi di tutte le imprese e di tutte le famiglie della Sardegna. Un progetto che vede il porto di Oristano e Santa Giusta ancora più al centro della Sardegna e forse per la prima volta viene concretamente sfruttata la posizione strategica di una zona sottovaludata da tempo. A sottolinearlo l'amministratore delegato di Aigas e Gassendit S.P.A. Claudio Evangelisti. Oristano ha intanto una caratteristica importante, un'infrastruttura portuale purtroppo non pienamente utilizzata ma sicuramente di buon livello. Il secondo fatto è che Oristano è baricentrica in Sardegna quindi da Oristano si può facilmente raggiungere tutto il resto della Sardegna. In una prima fase è molto probabile che la distribuzione del gas arriverà in forma liquida quindi con carici esterna. La locazione se fosse stata nel sud o nel nord ovviamente sarebbe stata da un punto di vista della logistica più complicata. Quindi Oristano rappresenta l'ottimum sotto vari punti di vista. Ultimo ma non meno importante abbiamo acquisito un'area che aveva già una banchina costruita, realizzata, pronta per l'uso e da questo punto di vista ci ha consentito di accorciare i tempi di costruzione. Un gas che proviene da dove? Fondamentalmente recepiremo il gas dal bacino del Mediterraneo quindi dai grossi depositi spagnoli, francesi. Abbiamo contatti con l'Algeria, ci sono altri potenziali sorgenti a Malta stessa dove c'è una grossa nave che fa da hub sostanzialmente per il gas. Da Livorno perché c'è un'altra piattaforma che si sta attrezzando per poter fornire navi da 7500 metri cubi. Quindi queste sono le principali origini. Un'azienda a conduzione familiare con 71 anni di età dichiara il presidente della Gas and Eat Mauro Evangelisti, fratello di Claudio. Suo il compito di fornire dettagli tecnici sui materiali innovativi e le tecniche di saldatura automatica per l'assemblaggio dei serbatoi. Costruiti in Cina con lamiere acquistate in Belgio hanno un diametro di 10 metri e pesano 130 tonnellate ognuno. A fine lavori saranno 7, 6 per il contenimento del gas liquefatto e 1 per il gas allo stato di vapore. Presente anche l'assessore regionale ai trasporti Massimo Dejana che sottolinea quanto questo impianto sarà importante per l'aumento degli attracchi. Il bancheraggio sarà un forte attrattore anche di navi da crociera, ha dichiarato Dejana. Visione positiva anche da parte dell'assessore all'industria Anita Pili che ha fatto un plauso per la celerità dei tempi di realizzazione. La posizione della giunta regionale rispetto alla metanizzazione dell'isola credo che sia abbastanza chiara. Proprio nelle settimane scorse abbiamo avviato i tavoli tecnici per consentire a tutti i bacini della metanizzazione dell'isola che sono fermi da diversi anni di ripartire e di rimettere in corsa 247 milioni di euro che sono fermi e che non portano ricchezza di sicuro alle comunità. Il gap della metanizzazione dell'isola è un gap che la Sardegna si porta dietro da più di 10 anni e oggi vedere che ha inizio il percorso un po' più vivo, un po' più concreto del primo deposito costiero nell'isola è sicuramente un segnale importante. Sabato 28 settembre a partire dalle ore 15 e 30 presso il liceo classico De Castro di Oristano gli studenti rientrati dall'estero di Intercultura racconteranno le loro esperienze mentre i volontari forniranno tutte le informazioni sul progetto educativo, i programmi scolastici e le bolse di studio offerte da Intercultura per poter trascorrere un periodo sino a un anno scolastico all'estero nel concorso 2020-2021. Sono iniziati i lavori di bitumatura a Città Giardino. Sentiamo. Il Comune di Oristano è stato di parola e questo per quanto riguarda la sistemazione e bitumatura dei marciapiedi e strade di Città Giardino in via Mattei. L'impresa appaltatrice dei lavori dopo l'intervento effettuato nel luglio scorso e successiva sospensione del cantiere ne ha disposto il riavvio con mezzi e operai sul campo. Una prima striscia nerra d'asfalto è già evidente ai bordi della strada in attesa che si operi nella piazza interna e nelle strade di accesso. Città Giardino si compone di sette edifici residenziali di 6-7 piani con oltre 500 residenti, un'area di 15.000 m2 dotata di servizi e ampi parcheggi che soccorrono quelli insufficienti delle strade circostanti. L'area è inoltre sede del Palazzo dell'Inail che ospita anche private abitazioni. L'intero complesso è stato edificato tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta in un'area edificabile appartenente alla famiglia dell'Avvocato Lofredo in località chiamata Suvorro de Madeddu come nome derivante dalla presenza di un'antica fornace della quale ancora svetta il lungo comignolo. Via Libera della Giunta regionale ha lo stanziamento di 32 milioni di euro a favore dei comuni per l'attivazione di nuovi cantieri di lavoro e per contrastare la disoccupazione. La Giunta regionale ha stanziato 32 milioni di euro a favore degli enti locali per l'attivazione di nuovi cantieri di lavoro e per contrastare la disoccupazione. I fondi potranno essere utilizzati per interventi immediati focalizzati sulle tematiche dell'ambiente del disesto idrogeologico, della valorizzazione delle aree archeologiche e degli attrattori culturali, del decoro urbano, del catasto e delle retti tecnologiche e dell'efficienza amministrativa. La delibera approvata dall'esecutivo su proposta dell'assessore del lavoro Alessandra Zedda fa riferimento a risorse del programma integrato plurifondo per il lavoro Lavoras. La novità di questo provvedimento sta nel fatto che saranno riconfermati anche i cantieri degli anni precedenti che permetteranno ai comuni il completamento dei lavori iniziati, ha dichiarato l'assessore Zedda, che ha riservato un esplicito apprezzamento alla competente commissione consigliare per la celerità con cui ha dato parere positivo al documento. La misura individua quali soggetti attuatori gli enti locali, singoli o associati e attraverso le unioni dei comuni, al fine di realizzare cantieri di lavoro e rafforzare i processi territoriali di sviluppo e salvaguardia dei beni comuni, attraverso la tutela del patrimonio di tutto il territorio regionale, ha concluso Zedda. Nonostante il progetto da 130 mila euro della giunta oristanese per la creazione di nuove batterie di loculi per i cimiteri oristanesi, ancora non sono partiti i lavori e le salme attendono in camera mortuaria. Ennesima gatta da pelare per il comune di Oristano che si trova a corto di loculi nei cimiteri e con alcune bare che attendono da giorni di essere sistemate. La causa del problema, dichiara l'assessore ai lavori pubblici Gianfranco Liccheri, è il ritardo nell'affidamento dell'appalto per i lavori dei nuovi loculi. Domani il lavoro, almeno questo è stato detto dagli uffici, a fine settimana dovrebbe essere risolto il problema. Lo scorso giugno l'amministrazione Luzzo aveva già dichiarato l'urgenza di creare al più presto delle nuove batterie per le quali erano già disponibili 130 mila euro. Intanto le due salme presenti dovranno ancora sostare in camera mortuaria con buona pace dei parenti dei defunti. Sarà attivo da martedì 25 settembre nei locali della Diabetologia al pieno terra dell'ospedale San Martino di Oristano l'ambulatorio infermieristico per i pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico. Sentiamo. Un'importante novità nel reparto di diabetologia dell'ospedale San Martino di Oristano. Dal 25 settembre infatti sarà attivo l'ambulatorio infermieristico per i pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico, un servizio che opererà in stretto raccordo con l'ambulatorio medico dedicato alla stessa sindrome attivo presso l'unità operativa di cardiologia. L'attività, che non ha carattere di urgenza, verrà svolta tutti i mercoledì dalle ore 9 alle ore 11 e vi si accederà in maniera totalmente gratuita. Il maggior vantaggio del servizio sarà quello di risparmiare ai soggetti già stabilizzati un numero di visite mediche, eccessivo e inadeguato, pur mantenendo un monitoraggio costante del proprio stato di salute grazie ai controlli infermieristici, mentre i soggetti che necessitano di cure più intense potranno essere seguiti dai medici con esami più approfonditi e con una maggiore frequenza. Gli studi infermieristici territoriali dedicati ai pazienti con scompenso cardiaco che seguono quelli rivolti ai soggetti con diabete avviati dall'Ase d'Oristano alcuni anni fa rappresentano un modello di assistenza innovativo e moderno e sono un punto di raccorto tra ospedale e territorio, così da consentire alle persone che soffrono di patologie croniche una maggiore continuità assistenziale che si traduce in un buon controllo della malattia, in minori ricoveri e in ultima analisi in una migliore qualità e una più lunga aspettativa di vita. La giunta oristanese ha depositato il bando per l'avvio dei lavori per la circonvallazione nord-ovest, ora il via all'appalto. Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del bando di gara il comune di Oristano ha avviato le procedure d'appalto per la realizzazione della circonvallazione nord-ovest. La gara si svolgerà su un importo a base d'asta di 2.234.500 euro. Le imprese interessate avranno tempo fino al 28 ottobre per la presentazione delle offerte. Per l'esecuzione dei lavori occorreranno 310 giorni. L'opera sarà realizzata grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il progetto esecutivo ha risolto alcune interferenze che erano emerse nelle fasi preliminari della progettazione con le nuove lottizzazioni. L'asse stradale del primo tratto è stato leggermente spostato verso est rispetto al progetto definitivo per consentire di rispettare la distanza minima dai fabbricati previsti nella lottizzazione che ricadrà a ovest della strada in progetto all'altezza della via Cairoli. La strada nasce con l'obiettivo di realizzare un itinerario di circonvallazione periferico al nucleo abitato. La nuova arteria stradale può inoltre garantire un'agevole accessibilità all'ospedale San Martino e agli altri servizi di interesse provinciale come Prefettura, Questura, IMS e INAIL. Il nuovo asse viario si snoderà attraversando 5 rotatori di nuova costruzione Via degli Artigiani, Via Cairoli, Via Le Repubblica, Via Morosini e Via Lusso. Il tratto da Via degli Artigiani a Via Lusso sarà realizzato con due corsie da 3,5 metri, banchine e corsia ciclabile con marciapiede da 2 metri. La pista ciclabile sarà separata dalla corsia di marcia dei veicoli da una iuola delimitata da cordoli. Il marciapiede sarà realizzato su un solo lato della strada, sull'altro lato si realizzerà un arginello in terra. L'apertura della mostra Emozioni di Sartiglia è stata prorogata a domenica 13 ottobre. La mostra è ospitata nella Pinacoteca Comunale Carlo Contini, apre tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 e raccoglie le opere pittoriche e fotografiche che hanno partecipato al concorso bandito dalla Fondazione Sartiglia. Tra queste anche quelle dei vincitori, Eleonora Porta e Michele Pau, rispettivamente per la sezione fotografica e per quella pittorica. Il Comune di Cabras organizza in collaborazione con l'area marina protetta una giornata di pulizia della spiaggia all'isola di Mal di Ventre. L'appuntamento è fissato per domenica prossima 29 settembre alle ore 10. Chiunque volesse partecipare può raggiungere l'isola con la propria barca oppure prenotare il proprio posto con gli operatori che fanno regolare trasporto da Puzzuidu a Torre Grande. Ai volontari verranno forniti i guanti e le buste, uno snack, dell'acqua e cappellini e magliette. L'operazione di pulizia dovrebbe terminare intorno alle ore 14. Per informazioni si può contattare il numero 0783 39 10 97. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Vi do appuntamento alla prossima edizione del telegiornale oristanese ricordandovi che potete come sempre contattarci sulla pagina Facebook o all'indirizzo mail redazione-supertv-uristano.it Buon proseguimento.